Ciao a tutti ragazzi, qui Amato e Tota! Siamo facendo una crisi di identità! C'è anche Gianni sempre qui dietro Siamo sempre di quel pappagallo malefico che è sempre sulla spalla Gianni ma anche voi che sei sempre qui dietro! Che c'è? Un'ansia voi qua dietro! Come state? Spero tutto bene! Ed oggi siamo tornati in una delle vostre serie preferite Ovvero alla prova non ridere All I try not alone Potrei fare il cantante? No, non dovrei fare assolutamente il cantante E siamo finalmente oggi tornati con le nuove dischi al gusto Io ho delle doti canore non indifferenti Perché sono uscite le nuove dischi al gusto e aggiungerele solo le inimitabili Dato che io ci ho fatto i video più divertenti con le dischi al gusto Infatti c'è questa nuovissima edizione con le buste sia argento che oro Esistono 12 nuovi gusti e io sono qui per provarli tutti Dei gusti nuovi c'è Sicero Puzzolette Un mandarino cinese Cacchetta di piccione O gelato all'alana Scatallo Sputaccioso Madonna mia O pesca sciroppata Magari Buona pesca Pustolodo rosa O frutti rossi Mutanda piscione O banana split Muffa putri Da occomero Fresco In pratica la challenge di oggi come funziona Devo farlo Provando a ridere E ogni qualvolta che io Ahimè Riderò Che è il mio punto debole Dovrò assaggiare e mangiare una caramella Della speranza che sia buona Li trovate in edicola Per questa prova a non ridere ragazzi Vi chiedo di superare i 50.000 like Sempre per il solito discorso Il like è gratuito Cioè il bottoncino è sempre qui sotto È inamovibile Non costa nulla cliccarlo Però a me dà tanta forza e tanto sprono nell'andare avanti Quindi grazie di cuore E io direi di iniziare subito Sempre con i gatti partiamo Che sono il mio punto debole Ecco c'è questa ragazza che scende alle... Oddio Oddio Concentrazione How it concentrazione Ok Salsa No ragazzi Così non va bene Io spero che i video non siano così perchè Io non ce la faccio Sennò finisco tutti i pacchetti Come sempre qui c'è La ruota dove applicare questa freccia E decidere il gusto Ma siccome io ho dei video da vedere Aprirò questa busta Busto la ruota rosa o frutti rossi Buona buona Si frutti rossi si Vai nonno Oh mio dio Adesso è diventata madonna Oh mio dio Ecco questo qui è un documentario Facciamo partire il servizio Il servizio è sulla ginasta Ragazzi che cosa sta succedendo? Che cosa... Il figlio di Beret E' lui Ecco Sempre era il figlio di Beret Perché ormai vogliono tutti Cos'è? Oh mio dio Oh mio dio serio Oh mio dio serio Piano Vi odio io vi odio vi odio tutti Voi che vi schiantate vi odio tutti Muffa putrida o cogomero Fresco Te prego No 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 Questo non è il cogomero Io vi posso assicurare che questo non è il cogomero Non ci voglio credere Siamo in neve qui in montagna No Ma che cosa fai? Che cosa fai? Oh mio dio Ma dove lo stanno facendo? Nell'inter city notte? Alla giornata Fai attenzione Fu sempre tua madre E tua madre fai attenzione Cosa fai? Miseria Miseria Cosa fai? Oh mio dio Ma ragazzi Ma è pericolissimo Perché mi odio Era Era Buon Natale Io Sembra io da piccolo Io lo facevo sempre da piccolo Non andava così bene però Luke Skatework No 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 ragazzi Io non ci riesco Cacchetta Oh mio dio Di piccione o gelato alla nasta No No Questi sono proprio i piccioni Quelli di piazza d'uomo No No Piano Ragazzi Vi prego Avete pianto Buon appetito a tutti Buona cena No Che dolcezza Non ci credo Ho bucato Non ci credo Ho bucato Si Che cosa succede Un assalto alle farfalle Che cosa succede Tu hai mai con il gioco di pover Attenzione che poi cadezzo con la tua testa Ma che ridi Oh Oddio adesso E' esplosso tutto in mare Oggi è meglio che Che tardo Sputaggioso O pesca Scinoppata Ti prego La pesca Ooooo Questa non è pesca C'è un albero No 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 Oh mio dio Chi è Oddio Simone resisti Miseria Miseria Ok Questo ce l'ho visto Questo è il bambino che casca Si Non casca No No Mamma mia Mamma mia Go Corri Forrest Corri Sei un poliaco Forrest Sei un poliaco Che è Madonna Cos'è Che ha combinato Che ha combinato adesso Chi ha combinato Oh Ho preso il polo Oh mio dio Adesso Un fungo gigante Nella montagna Ma cosa fa Ma cos'è Cos'è Ma chi è Un tuo corpo Salta Ti fai male Oh mio dio Stop Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Di nuovo Un bustolo odoroso Frutti rossi Sì Frutti rossi Sì Mamma mia E' sempre Stavolta i frutti sulle facce E' assoluto Non si può più Vabbè Vabbè Mi avendo Pianomi Guarda che non sei fisicamente portata per quella sport Oh mio dio Pianosi Ma come cavolo è finita in piscina Come cavolo è finita in piscina Fai attenzione Non è il posto migliore dove buttare Io ve l'ho detto che non era il posto migliore Io passo e sto la prendo così A casa c'è una mamma Eccola qui No ragazzi che cavolo ho preso Che cavolo ho preso No Eh la bustola odorosa La odorosa si fa per di però Eh che cavolo Mamma mia Attenzione piccola Non sapevo potesse succedere una cosa del genere Con una sedia Il presepe è vivente questo Il presepe è morto Il presepe è ufficialmente morto Ecco come sempre Io vabbè mangio Vediamo adesso Che cosa c'è? Cacchetto di piccione Vediamo Oppure Gelato all'anas Vediamo se vediamo qui I video di vanno Mmm No ragazzi Mi vedono ridere ma la caramella Ne qualcuno è devastante Ma perchè? 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 Quindi ragazzi e cantine Spero di cuore che questo video vi sia piaciuto questa nuovissima prova a non ridere Vi chiedo di raggiungere i 50.000 like Il bottoccino è qui sotto Cioè adesso mi state ascoltando Basta cliccare un secondino il vostro tempo a premere un like Io vi ringrazio di cuore per aver visto questo video Vi invito a seguirmi su Instagram Perchè siamo ad un passo dal milione Tutti i link qui sotto in descrizione E noi ci rivediamo ad un prossimo video Ciao! Ciao! Ciao!